Oggi il maestro ci ha insegnato che la realtà è soltanto un'apparenza e noi viviamo come dentro la grande grotta dove vediamo soltanto ombre di cose che non sono altro che la copia di realtà ideali superiori che vivono in un mondo lontano di sopra di noi e poi ci ha penetrato!